A Tiene, in provincia di Vicenza, scontro tra tre automobili, una visibilmente accartocciata, quattro le persone ferite. In via Capuccina sono arrivati i pompieri che hanno liberato il conducente della Golf Rovesciata. Rimasto ferito è stato preso in cura dal personale sanitario del SUEM per essere stabilizzato. Ferite anche le tre persone a bordo della Dacia Sandero, pure loro assistiti dal personale sanitario. Illeso l'autista della Mercedes. Tutti i feriti sono stati trasportati all'ospedale. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.